Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots, questo è un video speciale in cui giochiamo con il Portogallo e questa è l'unica regione presente nel gioco e dobbiamo praticamente picchiare il cocodrillo fin tanto che non ci dà quello che ci ha rubato ovvero la nostra terra natale, è vero, il Portogallo si è trasferito completamente negli Stati Uniti cioè negli Stati Uniti in America e non so quanto development abbia, vediamo un po' vediamo un po' allora, 115 development, tutto in America, attenzione tanto qua abbiamo surclassato gli ottomani di brutto dobbiamo ancora prenderci quello che è nostro nello scorso episodio è iniziato il Corton Country che finisce ad agosto fra dieci anni quindi vediamo un attimo tanto qua c'è una guerra in corso ah, me l'ero persa me l'ero persa dunque tu sei wow, soldi tu sei i soldi tu sei i soldi, facciamo pace dai ah quanti soldi? potremmo anche prenderci solo le war reps, visto qua? quanti soldi guadagnano? adesso poco perché è devastata è devastata occupata però prima mamma mia guadagnava tipo 9 al mese poi subo gonzi-bonzi ok, vai per fuori questi hanno vinto i russi gli ottomani ora sono con le pezze hanno vinto i russi ragazzi gli ottomani sono stati cacciati indietro quindi il nemico del futuro di certo Russia e Ming perché la prossima guerra gli ottomani li asfaltiamo non c'è possibilità per loro di far nulla allora qua siamo già al massimo 28 non ci posso fare niente allora legittimità, misticismo? no amministrativi, technology, costa allora ci prendiamo il primo ma fra più tempo possibile questo è l'89% da che mandiamo fuori quello nepalesi vai là questi non mi ero accorto che fossero spawnati però trade efficiency qua dovremmo invertire un po' la rutta guadagnare un po' di più tra quanto finiscono i cork alziamo la stabilità appena finiscono tutti questi alziamo la stabilità shashala shashah allora soldi manpower o perdiamo soldi l'esitimità e prestigio eh un debito per avere prestigio no per ora facciamo così attaccare quelli allora intanto qua vorrei non sprecarne troppo siamo al massimo ora assolutismo e nobili ovunque facciamo questo beh lì ci stiamo arrivando questi dove sono invece ok dai fai pace bianca tu mi dai pure i soldi allora dammi pure le warreps no 74 ducati grazie allora tu pace separata perché troppi soldi troppi soldi ora ora il resto devo tenermelo per me aspettiamo che finiscano tutti questi perdi stabilità o perdiamo soldi ma potremmo anche perdere la stabilità settembre settembre pensavo fosse molto prima beh allora potremmo fare così o pace separata con te una cosa del genere 76 punti Musasha Adeli Mamelukki Mervan Cagatai Etiopia Ottomans Etiopia Ottomans no non possiamo prendere così tanto prendiamo questo per arrivare a collegarci con Tripoli direi questo Cagatai Miran dai questa qua possiamo farla sì perché stavo pensando di vassalizzarti ma sei troppo grosso ok questo qua va bene 99% assolutismo assolutismo particolariste da quella parte perdiamo ancora assolutismo perdiamo ancora assolutismo attenzione che non vorrei finire essere troppo vero esteso però ora perché il massimo non è più lì la legittimità è bassa Killva conquista in guerra malindi quindi confineremo vabbè per ora tieniti questo rivolto in corso non ne vedo chi è che si sta per rivoltare adesso Uzbek e Wustan allora Wustan torna di qua sono quelli qua sopra mi dispiace non poter dare niente a questo 35 no devo conquistare anche Bella Bella ah guardate Fungi che subito salta alla gola della gente poi ho lasciato il Fort a Kaff va bene però arresto 8 particolaristi in Ardakan si stavolta lo voglio qua non ho nessuno ci vai tu e poi perfetto qua e vai di là costa solo 78 assolutismo perdi 20 Armi Tradition si il prestigio mi serve gennaio gennaio del 29 ok ok poi io qua ho questo ma potrei prendere questo questo 17 tu costi 15 hai 55 anni hai 55 anni qua scende già di un botto quindi penso che ti cambierò non so se ho fatto partire il timer però non è partito il timer maledetto me da 10 minuti basta dai ci sta ci sta gli altri episodi sono venuti più lunghi quelli precedenti sto venendo ora ci sta quindi cambiamo questo perché ne prendiamo uno più giovane stai per morire e ora voglio arrest 52 3 che costi 8 allora questo qua non costa la metà tu si però va bene così 27 allora facciamo questa pace qua perfetto core abbiamo un arrest no ma dovremmo esserci dai loro vogliono passare in guerra con la Francia ah è vero potrei allermi con il Commonwealth io in funzione anti-russa e anti- anti-ottomana facciamolo rassid perché non posso ah quando divento una marca poi devi aspettare 10 anni per annetterlo non lo so va bene allora aspetto ma potremmo dichiarare guerra adesso agli ottomani cioè non è che si è messi così male ora perdiamo un botto di soldi prevediamo un botto di soldi ma va bene allora Tripoli è aleato con Mamluks e Tlemson quindi quando vogliamo andare di là ci siamo Persian Egipte sempre più grosso Malifulu Malifulu questo chi è? ah ti sei là tu con quelli eh vabbè tanto per forza di cosa sono attaccato così ora Medina me la tengo per quando voglio attaccare Karakoylu e lo faremo dopo la guerra con gli ottomani Tumushasha tanto non teniamo la pausa è il 34 nel 34 nel 34 va bene sotto chi converte di più 3% per convertire questi territori qua su niti poi posso far così abbiamo un po' di respiro però vorrei capire perché ha perduto tutti sti soldi a sto punto qua diamo in generale abbastanza forte che devi farne fuori due qua ci siamo perfetto i prossimi sono Delian e Ustan Delian da questa parte quindi vieni qui no potrei abbassare i forti cioè qua non sembra che ci sia il resto in questa zona un pochino qua quindi qua lo teniamo over force limit come mai over force limit ah ma io avevo il tizio che mi aumentava ecco perché ragazzi ho ripreso a giocare non mi sono ricordato che qua avevamo questo qua eh secondo me perdiamo tutti sti soldi l'avrei dovuto controllare di certo prima siamo comunque sopra ah è l'autonomia l'ho capito è l'autonomia dal proposito eh allora 10 di legittim move verso legalismo national rest meno 1 national attacks misticismo stavolta ciao allora qua non posso fare niente sistemiamo un po' la faccina dell'esercito che è troppo alta siamo sopra di 20 qua tengo 3 qui va bene qua 2 qua 2 qua 2 e 8 fatto ok che si ripaga da solo praticamente dai ci siamo continuiamo continuiamo a convertire c'è gata è sempre più piccolo ti sto già influenzando è vero no facciamolo ah perfetto dai adesso ce ne possiamo andare da lì prossimi sono i delian ma ce l'abbiamo fatta allora io farei il template 16-6 ma in realtà 16-6 si 16-6 anzi facciamo 18-6 questo qua la tua competenza 16-6 no secondo me è meglio 16-6 allora così 10 verso l'ossolutismo ora non ci serve ora non ci serve perdi stabilità gli emiri riprendono 10 di loyalty va bene quindi facciamo 16-6 10 anzi meglio aumenterò un po' i cannoni quanti cannoni servono per vincere un assedio di questo livello non me lo ricordo però possiamo andare 4-3-3 ok è bene really good speriamo esca fuori un re degno perché ne ho già uccisi tre ragazzi non è una roba che faccia così bene alla salute insomma vediamo le relazioni con te questo è 56 first rank insultiamo insultiamo i ming siete dei cinesi questo è un insulto molto grave i urema prendono 10 e che cavolo allora 35-45 35 lo aspettiamo il più possibile rivolto al cairo qua serve 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 tu allora il cairo è un fort di livello scarso no non ho questa informazione comunque volevo fare un po' abbiamo già questo da 30 modifichiamolo allora è che il mio forse limite non è neanche abbastanza alto non è neanche abbastanza alto mi prego ditemi che non fa schifo oh dai ne valsa la pena ucciderli tutti ok adesso io voglio l'assolutismo per anno o mi conviene prende qualcos'altro mantenimento dei forti no prendiamo l'assolutismo per anno sì dai assolutismo per anno infatti ora guadagniamo strano ma vero non sto conquistando niente mi sento male ok è avvenuto però visto che ho un disastro non posso verne altri aha t'ho fregato siamo immuni siamo immuni siamo immuni vero have a current disaster quindi chi se ne frega va bene ragazzi dai attaccato dalla Russia come è fatto a finire ah perché sono stati di certo questi cioè la guerra probabilmente coreana vediamo un po' corean conquest of sartu corean conquest of sartu corean conquest of sartu lo mettiamo qua anzi transfer trade ora facciamo questo però prima vi vedere qua mii quanta gente al cairo un ducato un ducato allora dove è qua mentre questo è acquetta quindi tu vai su quetta facciamo di passare veloci questi anni di pausa ops ci sono più quali sono le mie relazioni qua janegar back money erar ah maledetti c'è hanno preso direttamente il controllo della provincia sta roba me l'avevo dimenticata non abbiamo più debiti non abbiamo più debiti ora guadagniamo un botto questi li ero persi però c'è il forte qua quindi in teoria non mi rompo le balle bene che tutta sta parte dovrebbe essere a posto dai che stiamo sistemando un po' la faccenda manca ancora di tempo però moushasha 34 etiopia 35 poi tutta quella parte di là così mentre l'india è 39 40 40 eccetera 45 shivran ma sono tanti cacchio local autonomy che prendano pure il controllo di un forte vedete praticamente con tutte queste rivolte posso fare questo gratis però devo stare attento perché se arrivo al limite lo spreco france andiamo a convertire e poi arriva solo roba copta ma c'è tutta la roba dei nostri tizi da convertire quindi ho posto cosa vuoi tu? ridetto ecco lascio questa funzione perché mi dà davvero un botto di soldi hai detto anche te però mi dai le robe ecco adesso dovremmo fare qualche soldo in più sì forse era qua anche che perdevamo che perdevamo un po' sì non tantissimo però pirates ci sono i pirati ah e sì era meglio tenerla per dopo massimo di punti devo conquistare qualcosa ragazzi o ci facciamo le grandi moschee un anno in anticipo un anno in anticipo non se ne parla aspettiamo tranquillamente il prossimo anno vediamo di migrare un po' le relazioni in generale con gli stati musulmani in giro eh ma non ce ne sono tu musulmani e copti musulmani e copti con te potremmo farcela no penso che una loro non ce la possiamo fare con nessuno medina 29 facciamo un pochino di improve relation che è meglio così che non farlo insomma allora qua in Siberia di sicuro è meglio Lubecca è in personal union wow c'è l'imperatore proprio l'imperatore con i contro con i contro cosiddetti eh ok vediamo di spostare ecco qua stavo sprecando tutto il mio manpower perché sono un pazzoide tu vieni giù comowelf puoi tranquillamente prendere un po' di spenetro su di me non mi interessa c'è un po' di incazzatura in questa area geografica back money tarangi ok dai ci salutiamo qua ragazzi mancano tre anni alla fine del disastro vuol dire che mancano tre anni alla guerra contro di loro a meno che non ci siano le tre che finiscono esattamente tra tre anni eh circa 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 1 2 3 perché ti chiamo ancora contro degli facciamo lo stesso scherzo a Malva Giampuro un'altra volta quindi quello che faremo degli adesso gli ottomani hanno recuperato gli uomini però se dichiaro guerra loro controlliamo solo questa cosa lui entra e loro vogliono dei territori che magari non gli dò neanche non me ne frega niente adesso vediamo con te avrei dovuto allearmi prima probabilmente siamo a 5 fra 5 anni ma potremmo far prima ancora una guerra in india dai così abbiamo anche il com non è che servono almeno la facciamo più semplice dai ci salutiamo qua ci vediamo nel prossimo episodio ragazzi GG a tutti che